Dolore, sconcerto e incredulità sono ancora sentimenti che dominano nell'animo dei familiari e dei tanti amici e conoscenti sconvolti per la tragica morte del piccolo Ettore Cordisco, il bambino di 7 anni di vasto che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nell'area del parco divertimenti di Euro Disney alle porte di Parigi. Ettore, in macchina con il papà Roberto, la mamma Maria Domenica e la sorellina Bianca, è rimasto vittima del terribile impatto che il mezzo sul quale si trovava ha avuto con un'altra vettura. La morte è sopraggiunta pressoché sul colpo. Il piccolo che quest'anno ha frequentato la seconda classe della scuola primaria delle figlie della Croce, era in Francia assieme ai suoi più stretti congiunti per trascorrere alcuni giorni di relax e vacanza nel grande parco dei divertimenti. La notizia del gravissimo incidente avvenuto ieri mattina è giunta a vasto solo ieri pomeriggio a diffonderla il papà disperato per l'accaduto. Nulla al momento è stato ancora deciso per il funerale del piccolo Ettore. Con ogni probabilità si arriverà all'inizio della prossima settimana dopo l'espletamento delle dovute, in questo caso tristissime, formalità burocratiche.